Salve amici e amiche, la notizia di cui parleremo oggi, se non l'avete già sentita, è la perdita di un F-16 ucraino e del suo pilota. Si parla del tenente colonnello Mas Olexei Serevich, ha perso la vita il 26 agosto 2024 durante una missione di combattimento per proteggere il territorio ucraino da un massiccio attacco missilistico da parte di Mosca. Questa notizia ha iniziato a circolare ieri mattina da fonti ucraine, nonostante fossero titubanti all'inizio, ma alla fine hanno deciso di trasmetterla anche per evitare che la propaganda russa iniziassi a diffondere false notizie di abbattimenti. Come sempre, cari amici, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto qui sotto trovate i pulsanti di youtube anche per lasciare un mi piace, attivare la campanella delle notifiche e supportarmi volendo in questa iniziativa. Allora, in questa foto possiamo vedere Serevich qualche anno fa presso una base americana a bordo di un F-35, sullo sfondo poi vediamo un F-15. Ora, secondo la stampa, l'incidente è avvenuto il 26 agosto durante l'intervento delle forze aeree ucraine che ha portato alla distruzione di 102 missili su 127 lanciati e 99 droni su 109 lanciati dalla Russia. Quello che sappiamo è che si è trattato di un incidente, cioè è escluso che questo F-16 sia stato colpito in un combattimento aereo con un caccia russo. Lo sappiamo perché questi F-16 sono stati schierati per la difesa dello spazio aereo ucraino, quindi volavano all'interno del territorio ucraino e sappiamo anche che l'aviazione russa non può sorvolare l'Ucraina perché è protetta dal suo scudo missilistico. Quindi, è escluso quindi uno scontro aerea aria. Cerchiamo di capire cosa potrebbe essere successo, avanzare delle ipotesi, anche se c'è un'indagine in corso, quindi probabilmente sapremo meglio con più precisione quello che è accaduto nei prossimi giorni. Vediamo se abbiamo anche degli indizi per capire cosa è successo e aiutarci a fare luce. Intanto sappiamo che questi F-16, come anche altri aerei ucraini come i MiG-29, lunedì 26 sono stati usati per intercettare e abbattere missili e droni russi. Nel video precedente vi ho proposto le immagini anche per esempio di un Mi-8, un elicottero da trasporto che è riuscito a abbattere un drone, e un MiG-29 che hanno lanciato un missile contro uno di questi droni. In questo breve video, per esempio, vi mostro un vecchissimo Mi-24 ucraino a battere un drone a colpo di cannoncino. Le notizie che circolano però sul caso dell'F-16 ci dicono solo due cose da cui possiamo fare le nostre ipotesi. Sappiamo che il pilota Mas è riuscito ad abbattere tre missili da crociera e un drone, e che nel momento in cui si è diretto verso il bersaglio successivo, la comunicazione radio si è interrotta e poco dopo l'aereo è precipitato. Sul Kiev Post si parla di un errore del pilota. Ora, per parlare di questo argomento oggi mi aiuterò con il simulatore di CS anche per vedere un po' le meccaniche di questo tipo di ingaggi che sono stati effettuati dai piloti ucraini. E utilizzerò un F-16 Block 50, che non è molto diverso da quello che stanno usando gli ucraini in questi giorni. Partiamo col dire che gli F-16 possono portare un massimo di 6 missili aria-aria in tutto, quindi per una combinazione che in genere può essere di 4 missili radar e 2 missili termici, oppure 6 missili radar o 6 missili termici, oppure 4 missili termici e 2 radar. Queste sono le combinazioni possibili. Qui possiamo tirare già alcune somme, fare alcune ipotesi. Intanto l'intercetto di missili da crociera è una cosa, dei droni un'altra, perché questi due oggetti hanno velocità molto diverse. Quindi molto diverse possono essere le modalità con cui ci si approccia al bersaglio e anche le velocità di avvicinamento. Un F-16 normalmente viaggia a velocità di circa 800-900 km orari in queste circostanze. Un missile da crociera ha velocità fra i 700 e i 800 km orari, quindi molto simili come velocità a quelle di un F-16. Se parliamo invece di droni, le velocità sono molto più ridotte di 200, massimo 250 km orari, quindi capirete che è un po' come avvicinarsi con una Ferrari a uno che va in bicicletta, la stessa cosa. Se consideriamo però che entrambi questi oggetti, sia il missile da crociera che il drone, sono provvisti di cariche esplosive, in comune hanno la pericolosità. Per cui se l'oggetto ingaggiato esplode nelle vicinanze dell'aereo che lo sta ingaggiando, questo può essere molto pericoloso. Ci sono casi documentati di questo tipo di incidenti. Due anni fa, per esempio, un altro pilota ucraino di MiG-29, Vadim Voroshilov, distrusse cinque droni Shared nel giro di pochi minuti, tre nell'Ucraina meridionale e due a ovest. Nell'ultimo attacco i frammenti del drone distrutto colpirono pesantemente il suo aereo e attraversarono fra l'altro anche il tettuccio, ferendolo al volto. Vadim decise di lanciarsi col paracadute, ma prima si assicurò che l'aereo non finisse su un caseggiato. Fra le altre cose si fece un selfie mentre scendeva col paracadute, divenne famosa la sua foto dove aveva il viso appunto ricoperto di sangue. Ora, il problema di ingaggiare missili o bombe volanti non è nuovo in aviazione, ma risale addirittura alla Seconda Guerra Mondiale, quando i piloti della Royal Air Force, i piloti inglesi, con i loro Spitfire ma anche con i Tempest, svolsero esattamente lo stesso ruolo per cui sono chiamati a intervenire oggi i piloti ucraini. Intercettare un drone o una bomba volante V1 presenta gli stessi rischi, gli stessi problemi. Se ingaggi questo oggetto a corto raggio, la sua esplosione e i suoi frammenti possono danneggiare seriamente il tuo aeroplano. Non a caso, i piloti inglesi della Seconda Guerra Mondiale iniziarono a usare una tecnica assurda, che consisteva nell'affiancarsi alle V1 tedesche e poi darle giusto un colpetto con la punta dell'ala per farle ribaltare. E questo, per quanto possa sembrare folle, era comunque più sicuro che mitragliarle. Lo stesso discorso vale ancora oggi per i piloti ucraini, ma per tutti i piloti da combattimento. Ingaggiare un missile o un drone esplosivo a corto raggio può essere molto pericoloso, infatti da procedura si dovrebbe usare un missile per questo. Non a caso, il 4 febbraio 2023, se ve lo ricordate, ci fu famoso caso dell'F22 americano che distrusse un pallone spia cinese nei cieli americani. Le immagini, queste immagini che vi mostro, fecero il giro del mondo. Fra l'altro, nei commenti qualcuno disse eh, ma che stupidi gli americani a usare un missile che costa mezzo milione di dollari per distruggere giusto un pallone. Ok, però ricordiamoci che la realtà non è Hollywood dove si spara tutto con il cannoncino. Non funziona così. È troppo rischioso ingaggiare un oggetto fermo con un F22 a 10 km di quota a colpi di cannone. Si usa un missile apposta da procedura. Comunque, per tornare alla perdita dell'F16 Ucraino, le ipotesi che possiamo formulare a questo punto sono tre. La prima è che il pilota e l'aereo siano stati colpiti dalla onda d'urto dell'esplosione di uno di questi oggetti che è andato a intercettare o i frammenti di questo. La seconda è che il pilota sia svenuto per una manovra ad alti G. La terza, un malfunzionamento dell'aeroplano. Ora, Kiev ha parlato di errore umano. L'errore umano, per come posso intenderlo io, è la seconda ipotesi, una manovra ad alti G. Quindi se dovessi esprimere la mia opinione, prendetela per quello che vale, sarei più orientato su una manovra ad alto fattore di carico, ad alti G. Che possono essere di due tipi, fondamentalmente i rischi per il pilota, soprattutto per un pilota non troppo esperto su un aeroplano che reagisce molto violentemente a questo aeroplano, come un F-16, perché l'F-16 ricordiamo può attirare fino a quasi 10 G, 10 volte il tuo peso corporeo. E può farlo in due modi il pilota raggiungere questi fattori di carico. Può farlo istantaneamente, con una velocità istantanea, con una virata istantanea, può raggiungere immediatamente queste accelerazioni, oppure sostenuti. Cioè, se il pilota inizia a virare molto stretto, ma nell'ordine di tempo, non serve che arrivi a alti valori di G. Per svenire bastano pochi, anche 4-5 G. Se a questo poi si aggiunge la fatica, che faccio l'esempio, hai già svolto la tua missione, hai già abbattuto 4 oggetti, hai intercettato 3 missili da crociera, il che già, voglio dire, è epico. Fidatevi, intercettare 3 oggetti così veloci nel giro di pochi minuti è una cosa epica. Cioè, è difficile farlo in simulazione, figuriamoci in realtà. A questo poi aggiungi un oggetto molto più lento e poi ti dicono di intercettarne un quinto, a quel punto il corpo ha già subito molta fatica, molto stress di accelerazioni ed è cumulativo, non è? Cioè, immaginiamo di stare in palestra e sollevare pesi. Per quanto tempo possiamo farlo, no? Cioè, è un limite di tempo. Dopo un po' la fatica inizia ad accumularsi. La stessa cosa vale per i G. Quindi, se devo dire la mia, dopo 4 intercetti, il quinto era già, il pilota era già al limite della sopportazione fisica. Quindi è bastato poco per farlo svenire eventualmente. Svenire ai comandi di un F-16 è mortale, è un po' come chiudere gli occhi, insomma, in un gran premio di Formula 1, stessa cosa. Quindi questo spiegherebbe l'interruzione ai comandi e l'interruzione, scusate, l'interruzione delle comunicazioni e lo schianto dell'aeroplano. Dobbiamo ricordare poi che queste versioni degli F-16 ucraini non hanno nessun sistema automatico che salva l'aeroplano e il pilota in queste circostanze. Le versioni più moderni hanno, per esempio, un sistema di pilota automatico che richiama i comandi e livella l'aeroplano nel caso in cui si punti il terreno troppo aggressivamente. C'è, per esempio, dei sistemi che permettono di seguire il profilo del terreno. Queste tecnologie non ci sono su queste versioni che hanno a disposizione gli ucraini. Hanno avuto un aggiornamento ai radar e alle avioni che però il loro volo è ancora molto manuale, non è molto diverso dal controllo manuale che hanno i piloti su un Mi-29, per intenderci. Quindi, mio parere personale, una manovra troppo aggressiva, aggiunta alla stanchezza accumulata sul corpo, può facilmente portare alla perdita di conoscenza. Mentre sto parlando, vi mostro proprio degli esempi in simulazione per quello che può succedere. Se succede questo, purtroppo non c'è nessuna speranza, anche perché è molto difficile recuperare uno svenimento da una virata così aggressiva. La perdita di questo pilota e dell'aeroplano ovviamente è molto importante per la credibilità ucraina, che ha appena ricevuto giusto una decina di F-16, quindi oggi sono nove praticamente. Mas Olexei Serevich non era poi un semplice pilota ucraino, ma era uno dei principali sostenitori della causa per ottenere gli F-16. Tra l'altro era grande amico anche di Andriy Piliškov, giuis soprannominato. Entrambi erano i volti della ricerca del governo Zelensky per ottenere questi aerei. Quando Piliškov morì durante una missione di combattimento nell'agosto 2023, Mas si fece, continuò a essere portavoce della causa e a spingere per questa richiesta. Lui disse che il suo amico Andriy era l'uomo delle idee e la principale forza trainante dietro tutto. Io, disse, mi sento responsabile nei suoi confronti perché questi aerei arrivino il prima possibile. Durante l'addestramento Mas ha parlato della portata e dei pericoli dello sforzo per far volare questi aerei da combattimento sul campo di battaglia, dicendo che in tempo di pace avremmo avuto tutto il tempo necessario per studiare questi jet con calma, ma oggi di tempo non ne abbiamo. Comunque, sulla scia di questa tragedia, ieri sono arrivate anche notizie rincuoranti, come ad esempio questa comunicazione da parte delle forze aeree danesi attraverso il loro comandante Onno Einshlemi, che ha detto sostanzialmente che gli ucraini possono usare gli F-16 come meglio preferiscono, senza limiti. E speriamo, sinceramente questo lo dico io, perché francamente intercettare missili e droni è poca roba alla fine. È necessario, va fatto, ma come si dice, no? Devi colpire l'arciere, non le sue frecce. Finché gli ucraini non avranno la possibilità di colpire in profondità le basi di partenza degli aerei russi, dovranno fare uno sforzo enorme per intercettare questi sciami di droni e missili da crociera. Da parte del governo di Kiev comunque arrivano anche buone notizie, per cui si vedono già alcuni lanciatori della loro versione del missile balistico Iskander, che tecnicamente ha il raggio per colpire le basi di partenza di questi aerei russi sul territorio russo. Poi molte delle remore e dei limiti imposti all'Ucraina sono stati comunque riconsiderati in questi mesi, per esempio se guardiamo all'uso delle unità i Mars, che fino a un anno fa erano impensabili, si stanno rilevando estremamente efficaci per colpire con precisione anche al di là del confine russo. A questo poi si aggiungono i droni ucraini che continuano a stabilire record di distanza ed efficienza, mandando in fumo depositi di carburante, munizioni, ovunque letteralmente sul suolo russo. In questa pagina per esempio vi riporto quattro droni ucraini che hanno colpito a qualcosa come 1100 km di distanza dal confine. In quest'altra paginetta poi vediamo gli obiettivi militari papabili che gli ucraini potrebbero colpire subito con le armi a disposizione se ne avessero le autorizzazioni. Come vediamo per esempio i segnalini in rosso ci mostrano le installazioni militari a portata di tiro dei missili ATAC-MC, che sono missili balistici americani. I segnalini degli aeroporti in bianco sono per esempio le basi militari che usano i russi per lanciare questi attacchi e possono essere anche questi raggiunti dai missili balistici ATAC-MC. Tutta la zona gialla poi è l'area di competenza che può raggiungere il sistema IMARS. Quindi si parla di qualcosa come 245 installazioni militari russe direttamente coinvolte nell'invasione dell'Ucraina, che potrebbero essere colpite insomma se non ci fossero restrizioni. E dico tutto questo mentre i russi continuano a guadagnare terreno nell'oblast del Donetsk e a Est, ancora oggi, seppure con perdite enormi. I dati vengono continuamente aggiornati. Queste sono per esempio le perdite russe in soli 4 giorni. Qualcosa come 1090 soldati, un aereo, un su 25 per la precisione. Vi mostro il video che ha fatto un po' il giro dei notiziari, anche se come al solito Repubblica lo ha passato come un combattimento aereo. Anche no. Si vedono semplicemente due su 25 russi e uno di questi, quello più in basso, viene colpito da un missile spalleggiabile ucraino. Poi hanno perso 5 carri armati, 14 mezzi da trasporto truppe, 27 sistemi di artiglieria, un sistema di difesa misilistico, 94 UAV, 6 missili cruise, 41 veicoli vari, eccetera, eccetera. È chiaro che le perdite per la Russia sul lungo periodo sono insostenibili. Cioè, solo a guardare il numero dei soldati, in qualcosa come 22 giorni, 23 giorni dall'attacco ucraino nella regione di Kursk, hanno perso qualcosa come 13.000 soldati. Cioè, sono questi. E questo l'andazzo. Ma lo stesso vale per l'Ucraina? Per questo motivo la situazione politica americana ed europea in questo momento è più importante che mai nelle decisioni che verranno prese per permettergli di operare sul territorio russo. E con questo, signori, per oggi è tutto. Fatemi sapere, come sempre, nei commenti cosa ne pensate. Un abbraccio, alla prossima!